Dopo la testimonianza degli amici, oggi è stato il giorno dei genitori di Nicolò Chatti al processo in Spagna per la morte del ragazzo ucciso nell'estate del 2017 a Lloré de Mar. Momenti di grande tensione e tristezza. La madre descrive Nicolò e poi scoppia in lacrime. Non ci aveva mai creato problemi, il suo sport era il nuoto, la sera era stanco per il suo lavoro al mercato e andava a letto. Poi la voce si interrompe, il giudice le dice che va bene così, subito dopo fa il suo ingresso il padre Luigi. Anche la sua deposizione è brevissima e poi anche per lui l'emozione prende il sopravvento. Nicolò e i suoi amici, ricorda il padre, avevano deciso di trascorrere qui in Costa Brava una vacanza, poi dopo sarebbe partito con la fidanzata. Poi rammenta la telefonata con cui un amico del figlio, Simone Vanni, gli avvisa di quello che è successo. Era la mattina alle 5, eravamo anche noi in vacanza in Alta Italia, partimmo subito. Nicolò morirà in ospedale. Ma da quel calcio alla testa, forte e devastante, come descritto dai presenti, non si era mai ripreso. La difesa di Rasul Bissultanov, il ceceno che sferrò la pedata e del connazionale Mob Sar Magomadov, sta cercando di ridurre le responsabilità dei due imputati, anche oggi presenti in aula.